Ciao, ti è mai capitato di suonare con qualcuno di cui tu avevi una grandissima stima e invece accorgerti durante la performance che ritmicamente è instabile e poco concreto? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia e sono il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. A me è capitato più volte di trovarmi in una situazione simile anche con musicisti che io reputavo grandi maestri e poi invece mi sono trovato anche in situazioni completamente opposte, cioè di suonare con qualcuno a cui io non avrei dato la benché minima fiducia e poi quando abbiamo incrociato gli strumenti sul palco invece mi sono dovuto ricredere e sono rimasto anche sorpreso della grande autorevolezza ritmica che questi dimostravano. Mi riferisco a quelle situazioni in cui tutto all'improvviso diventa facile, fluido, ti senti come trasportato da una forza invisibile, misteriosa, magica, intangibile ma che ti accende il sorriso in faccia, che ti infonde coraggio, sicurezza, fiducia, che ti fa tentare anche dei fraseggi che non avresti mai osato fare in situazioni come queste. Mi sono chiesto diverse volte a esperienza conclusa ma che cosa può essere mai successo? E la risposta che ho trovato alla fine è sempre la stessa. Sul palco fra i membri della band c'era una grandissima consapevolezza ritmica. Vedi per me un musicista che ha consapevolezza ritmica è qualcuno che ha sviluppato in un modo o in un altro quella confidenza con il fluire del ritmo nel tempo, puoi addirittura bombardarlo mentre suona ma lui non farà una piega, non si sposterà di un millimetro. È come se viaggiasse all'interno di un solco immerso fino al collo e da lì non uscirà nemmeno a martellate. Con il tempo ho ascoltato tantissimi musicisti di qualunque categoria strumentale, vocale o di qualsiasi stile musicale. Ciò che ho notato è che hanno sviluppato alla grandissima tutti questa grande capacità. Hanno una consapevolezza ritmica di un livello devastante. Non mi riferisco a poliritmie da mal di testa o da calcolatrice, quella ce l'hanno in pochi realmente. Ma non è questo quello a cui mi sto riferendo. Sto parlando della grande capacità di fraseggio ritmico sempre sorprendente. Quelli che durante un solo ti fanno saltare sulla sedia e ti fanno uscire dalla bocca un wow incontrollato, che ti portano su sentieri che tu non hai mai esplorato, che ti prendono per mano e ti guidano in questa oscurità. E tu ti contorci sulla sedia come se ti avessero buttato addosso un urticante. Ma alla fine ti riporta sempre a casa dopo questo viaggio emozionante. Con questo voglio dirti che io sono convinto che questa consapevolezza ritmica è una capacità che tutti i musicisti, qualsiasi strumento suonano, devono, devono, devono sviluppare per forza per potersi definire tali. E infatti se vuoi eccellere in questo campo è così da sempre. Devi padroneggiare il ritmo nello stesso modo in cui lo padroneggiano i grandissimi musicisti, viventi e nonna. Prova ad analizzare un solo di grandi musicisti come ad esempio Pat Metini, Michael Breaker, Lyle Mace, John Schofield, Miles Davis, John Coltrane o di cantanti come Michael Jackson, Justin Timberlake, Frank Sinatra, Whitney Houston e potrai andare avanti per ore. Questi grandi musicisti con queste grandi capacità li trovi in ogni genere musicale, che sia pop, rock, jazz, funk, blues, non importa il genere, la padronanza del ritmo ce la devono avere tutti. Prova solamente a prendere 5 idoli del tuo settore e poi comincia ad analizzare il loro timing, cioè come portano il tempo sul loro fraseggio, come manipolano il tempo, lo restringono, lo dilatano. Prova ad analizzare nel dettaglio come si appoggiano sul timing del batterista, per esempio, o dell'intera sezione ritmica. Oppure se vuoi proprio prendere un batterista per forza, prova ad analizzare come si appoggia lui alla pulsazione metronomica, per esempio. Quindi questa è la capacità principale che tu devi sviluppare se vuoi distinguerti dalla sta grande maggioranza delle persone che suonano in maniera superficiale. Vedi, il primo segnale è proprio questo, la scarsa consapevolezza ritmica. Ed è proprio per questo che ho deciso di pubblicare una serie di mini esercizi per aiutare tutti quei musicisti che vogliono appunto sviluppare consapevolezza ritmica. Questi sono esercizi che a me in passato hanno dato un grandissimo aiuto per migliorare questa capacità e, essendo io un batterista, non potevo di certo trattarli con superficialità. Nella mia lunga attività da insegnante ho notato proprio questo, che sviluppare la consapevolezza ritmica con gli studenti è uno degli argomenti più ostici, perché giustamente i ragazzi vorrebbero già andare fuori a suonare con la band, con gli amici. In realtà, se non hanno sviluppato bene questa capacità, tutto ciò che suoneranno sarà inconsistente, cioè non starà in piedi, sarà fragile. E poi ho notato una grande pecca su quei musicisti non batteristi che pensano che il ritmo sia solo appannaggio del batterista. Questo è un gravissimo errore di valutazione. Prova a pensare a una situazione di questo tipo. C'è un'introduzione di un brano che viene suonata da un musicista della band che non è il batterista. Prendiamo per esempio un chitarrista. Se questo chitarrista è ritmicamente debole, durante quelle poche battute che lui introduce il brano, metterà in confusione tutta la band perché nessuno riesce a capire di preciso dov'è il tempo, per cui quando poi entreranno tutti assieme, per esempio il levare, sarà un disastro. Tornando alla mia voglia di condividere questi ottimi esercizi con chiunque voglia farne uso, voglio rivelarti il segreto che non serve uno strumento per studiarli. Per cui questa è un'ottima occasione per cominciare ad esercitarti, per sviluppare anche tu questa consapevolezza ritmica. In conclusione voglio dirti una cosa molto importante, il ritmo ce l'abbiamo già dentro tutti perché la natura è governata dal ritmo, tutto il mondo è governato dal ritmo e se credi di non avere il ritmo nel sangue, beh ti sbagli di sicuro. Per cui prova a seguire i prossimi video e vedrai che mi darai ragione. Se pensi che questo video possa essere d'aiuto a qualche tuo amico o collega, condividilo pure sui tuoi social e segnalalo pure a qualcuno che tu pensi possa trarne beneficio, non so, qualche elemento della tua band, qualche tuo amico, qualche tuo studente. Come avrai capito è molto importante che tutti gli elementi della band abbiano un ottimo senso del ritmo e soprattutto che abbiano lo stesso livello di consapevolezza ritmica, perché se così non fosse la band suonerebbe esattamente al livello dell'anello più debole della catena. Prova a pensare se per caso nella tua band c'è un elemento così, tipo non so, un bassista, il batterista, il chitarrista, il cantante, sarebbe una bella tragedia, vero? Per esempio voglio consigliarti di fare questi esercizi come warm up in sala prove con la tua band, oppure mentre guidi in macchina e senti una canzone alla radio, prova a cantarci sopra gli esercizi che troverai nei prossimi video. Io con la band in gioventù lo facevo spesso, per esempio sul furgone o in macchina ci si esercitava tutti insieme a eseguire questi esercizi, magari battendo le mani o cantandoli a voce, potresti avere delle grandi sorprese, come ad esempio il tuo licenziamento perché hai messo in difficoltà il leader. Sto scherzando ovviamente, però può succedere. In conclusione clicca mi piace e iscriviti al canale YouTube di The Drumbooster oppure vieni nel gruppo Facebook Strumenti per il batterista intelligente e iscriviti perché sarai avvertito in anteprima sull'uscita dei nuovi video di questo argomento. Io ti saluto, ti ringrazio e ti mando un forte abbraccio e ricordati studia più intelligentemente e non più duramente. Ci vediamo nel prossimo video dove andremo a fare il primo esercizio. Ciao da Ruggero!